Ottimo riscontro di pubblico parlando di manifestazioni per il raduno dei cavalli Merens a Rocca Bruna in Valle Maira in provincia di Cuneo. De Matteis, una vita dedicata al Merens, oggi tante soddisfazioni perché avete veramente migliorato la razza, state lavorando in accordo con i francesi per dare un futuro, una prospettiva al trekking a cavallo. Sì, non solo al trekking ma soprattutto l'allevamento che è poi la base della produzione per i soggetti che poi verranno utilizzati nel trekking e non solo perché ultimamente per esempio abbiamo questa disciplina degli attacchi che è divenuta importante all'interno della nostra compagine, ci sono dei ragazzi giovani che si sono appassionati, che hanno imparato il mestiere, che arrivano a livello nazionale in competizione e questo è importante perché consente una visibilità che altrimenti noi qui solo le nostre montagne, i nostri posti non avremo. Ecco, il fatto che il campione della mostra di oggi vada per un anno in Trettino come stallone riproduttivo, ecco questo vi fa onore in qualche modo? Ma diciamo... ...previ anche anni di lavoro, no? Diciamo che soprattutto è un riconoscimento del lavoro di anni di selezione e di tanti allevatori che in qualche modo hanno collaborato per riuscire ad ottenere questi risultati. direi anche una cosa, che noi oramai siamo a livello di scambio paritario, soprattutto sui riproduttori maschi, con gli amici francesi e questo è un altro risultato da non sottovalutare considerando che noi 40 anni fa qui avevamo un solo stallone importato alla Francia e diversamente dipendevamo completamente a loro, vuol dire che il lavoro che è stato fatto in qualche modo ha centrato l'obiettivo. È una bella soddisfazione il campione della mostra. Sì, sicuramente. È stato un anno un po' così e avere un campione oggi fa molto piacere, anche perché poi il prossimo anno partirà, andrà a riprodurre in Trettino. Ci sono qua i proprietari della prossima stazione di Monta e sono felice, sono contento. Quanto tempo ha? A nove anni, è stato candidato a salone a quattro anni, però c'è del lavoro, un lavoro di equip, come si può dire, e ho avuto tanti amici che mi hanno dato una mano e quindi è ancora più soddisfacente questo. Quindi è considerato il rappresentante della razza, ma anche migliorativo ancora. Sì, quest'anno è rappresentante della razza, lui è rimasto in Francia tre anni, dal 2019 del 2023, ha fatto delle prove, è un'elite loisir e in più è stato introdotto nel piano genetico internazionale. Quindi questa è un'ulteriore soddisfazione. Questo campione verrà nel vostro allevamento in Trettino. Sì. Dove siete voi? Siamo in Val di Non, a Borgo d'Anaunia. E quanti cavalli avete? Abbiamo 12 cavalli, tre stanno arrivando perché l'abbiamo acquistato in questa settimana qui. E il suo lavoro sarà quello di stallone e riproduttore? Riproduttore, sì. Noi abbiamo in casa già delle quattro fattrici nostre e poi vediamo cosa arriva ancora, perché abbiamo seminato noi in Val di Non nel Trettino, no? Sì, sì. Allora magari capita qualcun'altra cavalla anche da noi, no? Questo è soprattutto per il trekking? È per tutto, è per tutto, per gli attacchi, i dressaggi, i trekking, per qualsiasi cosa è un cavallo che si può usare a far tutto. Ecco, e soprattutto anche con gli attacchi voi fate comunque del turismo, diciamo, no? No, noi lo facciamo per far vedere i nostri cavalli perché noi non facciamo attività di maneggio, di quelle robe lì, noi lo facciamo solo allevamento e addestramento dei cavalli. Li usiamo per quello, insomma, ecco. E poi i cavalli, una volta che così voi li avete addestrati, li avete, che fine fanno, insomma? Ma la nostra un po' è una missione perché in Trentino è la patria dei Hufflinger e dei Norici e 16 anni fa ci siamo innamorati di questa rassa e stiamo provando a divulgarla anche nelle nostre zone. È una missione. Sì, è veramente una grande passione, tra l'altro vedevo che sono docilissimi. Sì, è un cavallo di un carattere docile, è di sangue freddo, quindi è adatto un po' a tutte le età e a tutti, non è un cavallo di difficoltà. Quindi anche per i bambini, per i ragazzi con difficoltà, insomma? Sì, bisogna trovare il cavallo con il giusto carattere, ma normalmente sono cavalli molto docili. Da cosa arriva questa passione? Perché poi alla fine... I cavalli li ho avuti da giovane, mio papà ha avuto i cavalli e qualcosa che c'è nel sangue. Non è che nasce così, la passione la porti dentro. Perché per noi è diventata una droga da dire, perché senza i cavalli non si riesce a stare, le combiniamo di tutti i colori, ci inventiamo tutte le storie più belle perché noi qui tutti gli anni siamo venuti e abbiamo portato uno spettacolo, abbiamo portato lo spettacolo nel fuoco, nello stagliare i cavalli, quest'anno abbiamo portato la biga con un attacco in linea A4 che non si vede dall'età dei romani, è così, ci divertiamo e facciamo divertire gli altri, è importante riuscire con i cavalli a sorridere, questa è la missione più bella. Mi dicono che non sia facile guidare quattro cavalli attaccati alla Doma. Non è proprio così semplice, però cerchiamo di dare il nostro meglio per riuscire a condurli. Tanta passione sicuramente e poi tante prove. La passione è la prima cosa, se non c'è la passione non puoi avere la continuità sul lavoro che stai facendo, quindi la prima cosa non è solo l'allevamento ma l'utilizzo di questi cavalli. Ho avuto la fortuna di intraprendere la strada degli attacchi grazie al mio amico Enzo e un grandissimo nostro amico che è Bianchelli e Davide e con il loro aiuto cerchiamo di dare il meglio per i nostri cavalli e farli vedere il più possibile, tanto che l'anno scorso siamo arrivati quarti al campionato italiano di attacchi ai Pratoni del Vivaro a Roma, abbiamo vinto la medaglia d'oro alla Fiera Cavalli Verona e adesso al momento siamo primi sul campionato ammatoriale sui tiri a quattro. Cerchiamo di dare il nostro meglio. E scusate se è poco, una bella soddisfazione Monica. Fa molto piacere, io lo accompagno in questo viaggio, sono anch'io una appassionata dei cavalli Merenze, io arrivo da Caraglio, mio papà da quando sono bambina ha sempre avuto i cavalli, poi con lui abbiamo unito le forze, abbiamo creato un allevamento sempre più robusto e più grande e piano piano, oltre che all'utilizzo, facciamo passeggiate, facciamo l'attacco, io poi mi dedico soprattutto all'attività per i bambini, proprio per dare ai bambini un'opportunità di avvicinamento ai cavalli, perché io arrivando da una famiglia di agricoltori quello che mi preme è far arrivare alle famiglie, ai bambini, che bisogna imparare a fare un po' di tutto, ma soprattutto a contatto con la natura e quindi questi sono un po' i nostri principi. Abbiamo avuto un bimbo adesso che ha un anno e lui è già in pasticcia per i cavalli Merenze. Gli avete già trasmesso, ce l'ha nel DNA ormai. Sì, proprio di sì, anche perché abbiamo fatto la Coppa Italia, io ero incinta e l'ho scoperto dopo e quindi lui è già proprio, è nato già in carrozza diciamo e impazzisce per questi cavalli. Anche per lei la passione è tanta insomma. La passione è quello che ci porta avanti. E poi questo vi consente anche proprio di fare queste attività che vi legano comunque alla società, ecco. Certo, sì sì sì. Tutto un grande lavoro di selezione. Sì 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 sì, selezione, amicizia ci va anche prima di tutto, tutto un insieme. Adesso siete anche gli organizzatori, no? È un bel impegno, siamo in tanti, poi come tutte le fiere ci vuole tanta buona volontà perché ovviamente si fa per la passione prima di tutto, ci vuole molto impegno però poi quando vedi tanta gente che viene alla manifestazione, tante persone che sono felici, questa è la cosa più importante. La soddisfazione più bella. E ripaga il lavoro e lo sforzo, soprattutto sì. Grazie. 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 Grazie.